ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo in palestra siamo con un outfit ginnico ginnico almeno l'outfit e sono con giovanni pois non mi piace lo che stiamo andando a fare non siamo in italia però ragazzi siamo a londra siamo a londra per l'evento di book powders ci siamo divertiti molto ieri ci sono allenati è stato molto faticoso allenati allenati abbiamo fatto crossfit che quindi non è un allenamento è una tortura non puoi dire queste cose oggi siamo qui per fare un allenamento serio cioè di bodybuilding non proprio è un po diverso dobbiamo fare lo sai come un po diverso dobbiamo in realtà fare una sfida no no che sfida no no perché sfida io ero venuto qua per fare un video con te ma secondo me ti piacerà la sfida dici secondo me ti piacerà facciamo entrare le sfidanti le sfidanti mi piace molto questo video si molto meglio di allenarmi con giovanni pois effettivamente ragazzi io vorrei dire solo una cosa ragazzi lei squat 140 kg di massimale e 120 per 4 sarà veramente un problema la sfida in cosa consisterà però ok lo spiego io vai lo squat lo faremo a coppie quindi ogni persona avrà un minuto per fare più squat possibili ogni coppia avrà due minuti un minuto a testa per fare più squat possibili poi lo stacco stessa cosa sempre col bodyweight sia stacco che squat e poi leg extension troveremo un peso adatto e stessa cosa un tot di minuti prima di non leg extension col bodyweight sto scherzando ok iniziamo ragazzi perché non abbiamo tempo ma se questo video arriva 100 mila like 100 mila live faremo un nuovo video con andiamo in francia ragazzi in francia questo è il bodyweight questa in realtà pesa 80 kg non è vero stiamo facendo delle serie di avvicinamento ovviamente ragazzi perché c'è un freddo volare a londra purtroppo il bel tempo londinese anche loro si stanno riscaldando per la gioia dei vostri occhi ma ragazzi questo video ovviamente ecco la versione con bull powders c'è l'abbigliamento c'è la tuta c'è giovanni che è nato dentro bull powders quindi in descrizione trovate tutti i nuovi prodotti di bulk il protein bites le barrette le proteine se qualsiasi cosa è quella non la trovate purtroppo trovate però l'instagram di loro due in descrizione e quindi io vi ho fatto un regalo anche voi potete farmi un regalo a me e usando il codice pure il 30 per cento di sconto ok ragazzi inizio io abbiamo un minuto one minute a disposizione oxen terrà il conto c'è un piccolo problema ragazzi devo fare un sacco di cacca ma sarà questo il bello del video magari o però guarda c'è un quadricipite abbastanza importante il timer starts when i sport the first ok wait 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 don't cheat dai fra ok aspetta free to one go 1 2 zifra fast 3 4 5 dai immaginate lo sto per non arrivare ci ti metti 11 16 dai non te rende 18 lascio credo in caso ok ok 18 isaac che è scarso ragazzi non alleno le gambe da due mesi giovanni siamo tutti con te in questo momento ragazzi loro stanno dicendosi a vicenda mazza che merda ma se è scarso questo ha fatto ma ma che stai fare 18 ce ne faccio 26 ha detto ragazzi continuano a ridere comunque ci stanno prendo per il culo palesamente 3 2 1 go 1 2 3 minchia 4 una macchina da guerra ragazzi 12 12 minchia che bestie ragazzi c'avevo schifo 13 14 15 16 vai 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 quanti secondi 20 secondi vai 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 22 23 24 come 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 6 27 28 12 libero risultati bravo giovanni hai salvato la nostra squadra ragazza morto è morto e morto let me see what you can do Ok ragazzi è il turno di Lori Ragazzi perderemo Per favore hai un compito Non c'è bisogno che ti dica nulla Mettiti là C'è da dire una cosa In vita mia non ho mai visto due ragazzi come loro C'è tipo lei è gigantesca Lei pure ha detto che in Francia è una delle bittine più Come si dice fighe? Fighe Ok Grazie Giovanni Che ben ti dio ragazzi Giovanni levati che dà la visuale grazie 3, 2, 1, go Un squat 2, 3, 4, mamma mia ragazzi sto svenendo 6, come on, come on Lori 7, 8, 9, 10 Ragazzi già mi ha battuto in 20 secondi 12 Non so cosa guardare prima Ora è in vain No? Come on, come on 15, 17, come on 18, 20 secondi 19, 20, 21 Ragazzi che figura di merda ragazzi 22, 23, 24 Allez, allez, allez 6, 2, 1, stop 27, 27 No way No way Vediamo il prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ha fatto più raps di Giovanni No, io ho fatto meglio Però Fra We have a problem Because he's still the first And I'm not okay with this But it's your turn And I'm not okay with this Yeah Ok Adesso ragazzi che c'è un problema Giovanni è ancora il primo E a lei non va bene Niente ragazzi Il video finisce qua Leave a like Ciao No no La sfida è tra me e Sam Su chi farà più rap Ma guarda che polpacci Ragazzi non ho parole No ragazzi No ragazzi Cioè ok Io non so che Cioè vabbè guardatemi Non gli chiederemo quante ne farà Iniziamo a piangere We are ready to cry Ok So I am ready to cry No no trust We are ready to cry Ragazzi si religioso Minchia che cattiva però ragazzi Minchia ragazzi Cioè che cattiveria è Minchia che polpacci c'ha Carco tu Look at these calls No sense Ok ready Oh my god Oh my god Ok Sorry sorry Ok Three Two One Go Minchia raga ma che culo c'ha Senza senso Ale riprendi anche So che stai riprendendo il culo Ma riprendi i quadricipiti Senza senso Ale è morto il cameraman ragazzi 11 Guarda i quadricipiti 12 13 How much? How many? 16 20 seconds Sta ridendo Sta ridendo ragazzi Come on come on come on 21 Already 21 Vai 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 22 Sì certo Giovanni sta spottando 23 Second stop Ok Oh my god Ok Ok La sfida L'hanno vinta loro Ma Le match rev Lo fate io Girls won the first round Non è assoluto Era parese Prossima sfida Deadlift E perderemo ancora peggio E ragazzi Succio cazzi Deadlift Devo fare la cacca Tantissima cacca Foxen is ready I'm not ready I will never be ready Woo I'm ready time I'm ready time 10 Ok 3 2 1 Go 1 2 3 4 5 5 6 7 Carlo Ferrari 8 9 10 11 12 13 14 Woo Woo 15 Come on 17 18 19 Close 19 20 20 20 20 20 20 23 28 23 24 25 25 29 28 29 30 30 30 reps ragazzi Are you scared? After my performance? Ragazzi sto bleffando un sacco mi sono distrutto ma non io lo farò vedere Turno di Giovanni Ok Se vuoi commentare, senti libero, hai il... Ok. Devi fare almeno altre 30 e arriviamo a 60. Fra più di 60 non le possono fare. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, come on! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minchia che bestia, vai! Vai, 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 vai! 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, vai, 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 40, 43 devi fare. 27, 28, 29, 30, come on, come on! 10 secondi, dai, dai, 5! 21, 32, 33, 34, 35, ciao! Good, 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 good! 30 più 35, 65. If you can beat 65, I'm gonna delete my YouTube channel. No, I'm kidding. No, shit! I'm kidding! He said she was the best at the deadlift, so I believe him. Your turn? Are you scared? Maybe a little. Ragazzi, è il turno di Lori. Sta usando gli straps, quindi se vincerà, vincerà per gli straps. That's cheating! Che thing, cheating! Quella non è la posizione giusta per riprendere un deadlift, lo sai? Oh, pretty nails, pretty nails! Comunque ragazzi, è venuto anche Carlo e non è venuto per controllare noi, ve lo assicuro. Carlo è un buon intenditore. Are you ready? Two, one, go! Uno, due, abbiamo vinto zi. Tre, quattro, cinque, sei, come on! Seven, eight! Eight! Come on Lori! Nine! M***a, è fortissima! Ragazzi, agli addominali che sprizzano fuori! Six, 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 seven, nine, zero! Puffa, 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 puffa! 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 What? Puffa! 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 Ma di che cazzo stiamo parlando ragazzi? Allora, Oxen lo farà col doppio del suo peso ragazzi, dobbiamo vincere in qualche modo. Oxen? Puffa! Puffa! Carlo ha appena detto se perdete il vostro stipendio metà va a loro! Puffa! 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 23 24 Quanto? 31 32 33 Ok, questo è stato un buon lavoro Ho vinto, ho vinto Con due rep, ma tu hai vinto il progetto Edzi Stagile 4 vincere Out of 3 Rounds You want 2 rounds So the third one is useless Visto che abbiamo già perso ragazzi Abbiamo fatto veramente cagare No, no, ci siamo difesi Sono loro che sono Insane They are insane We suck But you're insane So Wait, wait I thanks a lot Glory And Oxane And she's the best Thanks To Beat us To have beat us Trovate il loro link di Instagram in descrizione Trovate il loro Instagram in descrizione Il loro Nintendo 1, 2 e 3 E ringraziatemi dopo Perché so che Quando vedete le sue foto capirete Esatto 100.000 like Faremo un nuovo video con Lory e Oxane In Francia Paga Bullpowders Grande Carlo Yeah Esatto Sento quei soldi che risparmano i vostri stipendi Sì, sì Oh Grazie Al prossimo video Ci vediamo al prossimo video Bye bye Ah sì, lasciate un commento E fate un commento Su voi sapete cosa Ciao